Su iniziativa dell'amministrazione comunale di Sava si è tenuta, presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Falcone del Prete, la quinta edizione del Battesimo Civico, iniziativa rivolta ai ragazzi che, nel corso degli anni 2022-2023, hanno compiuto 18 anni di età. A tutti i neo-diciottenni è stata donata una copia della Costituzione Italiana, legge fondamentale della nostra Repubblica, e una copia dello Statuto Comunale, allo scopo di rendere consapevole questi giovani cittadini di cosa significhi raggiungere lo status di cittadino attivo, con tutti i diritti e gli obblighi che ciò comporta. Nel corso della manifestazione sono stati inoltre premiati circa 20 ragazzi, designati dagli istituti di provenienza, come i più meritevoli per profitto scolastico. Siamo alla quinta edizione del Battesimo Civico e quest'anno abbiamo improntato maggiormente sulla legalità, infatti degli illustri relatori, quali la dottoressa Pien Calza, magistrato presso la Corte d'Appello di Taranto, il cui tema della relazione è appunto la legalità e i giovani, l'onorevole Mauro Dattis, vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia, l'onorevole Dario Iaia, segretario della Commissione Parlamentare Comafie, e la nostra icona è il professor Cucco d'Oro, costituzionalista, professore di diritto costituzionale presso l'Università del Salento. Legalità, sì, perché la costituzione e la legalità sono due principi che dovrebbero essere il patrimonio di tutti, quindi lo scopo di questa amministrazione è un'altra cosa, proprio attraverso queste relazioni dei nostri relatori, cercare di mettere a fuoco aspetti diversi appunto della Costituzione che insieme alla legalità dovrebbero essere i principi fondamentali che guidano ogni cittadino nella quotidianità e nella loro vita. L'augurio a questi giovani è di fare in modo che non sia soltanto una giornata da ricordare, ma un impegno concreto da osservare nella quotidianità. Oggi festeggiamo i neodiciotenni della comunità savese che hanno raggiunto la maggior età nel 2022 e nel 2023. Vogliamo evidenziare loro l'importanza di questo traguardo che non è solo numerico, ma appunto vogliamo evidenziare il loro status che acquisiscono sia nei diritti, ma soprattutto nei doveri, quindi hanno il dovere di collaborare e di far di tutto affinché cresca la nostra comunità. E grazie anche alle relazioni degli illustri relatori presenti in sala stiamo evidenziando appunto l'importanza del raggiungimento di questo loro obiettivo. Io mi preme ringraziare oltre tutti i presenti anche i genitori, le famiglie, i docenti, le scuole, i parroci, tutti coloro che hanno collaborato in questi anni a far crescere i nostri ragazzi appunto e portarli al raggiungimento della maggior età. La Costituzione è la loro ancora del presente ma anche dell'Italia futura e quindi è bene che questo testo venga letto, venga conosciuto, venga studiato, venga meditato, venga apprezzato. Non è una lettera morta, è un testo vivo che deve accompagnare soprattutto le nuove generazioni verso l'Italia di domani. E quindi più ancora di salvezza di questa credo che non ci sia. Soprattutto in un momento come questo dove è facile scivolare nell'illegalità, nella corruzione, nella malversazione, e gli esempi sono purtroppo quotidiani, è bene che si sappia che la legalità è la strada maestra. Come la Costituzione ci insegna a guardare verso il futuro, verso le generazioni che verranno, la legalità è la forza di ogni giorno perché si rispettino le leggi, si rispettino i valori di fondo, i principi, le regole che appunto relazionano la vita di questo Paese. È una bellissima manifestazione, questa che abbiamo introdotto alcuni anni fa, che l'amministrazione comunale di Sava meritoriamente porta avanti. Quest'anno c'è quest'altra edizione curata dal consigliere Sabrina Zingaropoli. È un messaggio che noi vogliamo dare ai giovani neo-diciottenni, nel senso che, come diceva giustamente, ci sono dei diritti che si hanno come cittadini, ma ci sono anche tanti doveri. La Carta Costituzionale rappresenta un po' la storia e i principi della nostra Repubblica, per cui simbolicamente noi, e anche materialmente, la consegniamo ai ragazzi, invitandoli a leggere la Costituzione perché è un testo semplice, ma un testo che poi contiene quelle che sono le regole della nostra vita democratica. I giovani, i ragazzi, vivono un momento che non è semplice, non è soltanto colpa loro, è un problema generale della nostra società, del contesto nel quale viviamo, delle istituzioni che si sono molto indebolite. Negli ultimi giorni abbiamo assistito addirittura a due omicidi di ragazzi e ragazzini, di un 14enne a Roma, del 20enne a Palermo, episodi diversi, ma che comunque hanno lasciato per terra due giovani e due ragazzi. Quindi quello che noi come istituzione dobbiamo cercare di fare è di essere vicini a questi ragazzi, di comprenderli, di rappresentare loro anche quelli che sono i pericoli che derivano da determinati comportamenti. Penso per esempio al web, al fatto che girare un video pornografico, pedopornografico comunque rappresenta un reato ed una denuncia, un processo penale anche quando si hanno soltanto 14 anni. Quindi questo è il nostro compito, esserli vicini dal punto di vista anche della scuola. Oggi per esempio nella mia relazione parlerò dell'introduzione dello sport nella Costituzione, dell'attività sportiva, anche lo sport rappresenta un ambito importantissimo per i ragazzi, perché il ragazzo che fa sport, che sia calcio, pallavolo, che sia qualunque tipo di sport o attività sportiva, ma anche la palestra stessa, è un ragazzo che si allontana da quelli che sono invece i fenomeni più pericolosi, come l'uso delle sostanze stupefacenti e altri problemi che derivano soprattutto oggi dal web.